Emendamento 1.1 colletti contrario, emendamento 1.01 paglia contrario, emendamento 1.02 colletti contrario, identici 1.03 e 1.04 contrari, 1.05 contrario, 1.06 e 1.807 contrari, 1.08 colletti contrario, 1.09 paglia contrario, 1.010 paglia e 1.011 colletti contrari, 1.012 colletti contrario, 1.013 paglia contrario. E per articolo 1 sono finiti. La ringrazio. Adesso il relatore di minoranza. All'Asia che non c'è, il Governo. Conforme al relatore. La ringrazio. Bene. Moretto, prego. Grazie Presidente. Come abbiamo già avuto modo di dichiarare nel corso della discussione generale, dopo sei anni in quest'Aula giunge il primo provvedimento in qualità di legge annuale per la concorrenza e il mercato. Ed è un provvedimento sul quale, ovviamente, anche per i temi che vengono trattati, riteniamo sia necessaria un'attenzione, un impegno, come c'è stato anche nel dibattito in Commissione. Abbiamo trattato argomenti diversi, importanti, abbiamo toccato dei settori particolarmente delicati, nei quali c'erano diverse aspettative rispetto a questo provvedimento. E riteniamo che il risultato di questa discussione, di questo lavoro, sia un risultato buono, che ha visto l'impegno serio e concreto sia delle forze di maggioranza che di opposizione. Un'attenzione e una volontà di ascolto da parte del Governo per cercare di trovare un punto d'incontro tra le esigenze che...